Cosa non ha funzionato oggi, in questa mattina, in questo primo tempo? Insomma, meritava forse anche nella prossima volta. Beh, sicuramente non ce l'aspettavamo, nel senso che l'avevamo preparata bene, abbiamo una squadra forte e penso che abbiamo bisogno ancora un po' di minuti di trovare i meccanismi giusti e riuscire a automatizzare un po' tutto. Abbiamo cercato di dare il meglio, ma non è bastato, quindi cercheremo di farlo la prossima volta. Una bellissima atmosfera, cosa manca per dare le gioie che merita a questo punto? Beh, sicuramente mancano appunto i meccanismi, manca anche un po' di voglia, perché comunque davanti alla porta potevamo fare meglio, siamo state anche sfortunate, abbiamo preso una traversa, però, ripeto, secondo me ci mancano ancora quei minuti che ci possono dare di più. Non ve l'aspettavate? Pensi che il 0-3 sia troppo severo? Sì, penso che in cinque minuti abbiamo preso tre gol che non meritavamo e comunque la partita l'abbiamo tenuta bene fino appunto al primo gol e... boh, siamo state prese un po' così... non ce l'aspettavamo e credo che però dovevamo reagire meglio. abbiamo preso il primo gol, siamo scese troppo sia di voglia, di... un po' di tutto, quindi credo che la prossima partita dobbiamo imparare dai nostri errori. Ci sono delle ricominazioni sul primo gol, perché la gioia non è rimasta a terra, c'era un fallo, avete fatto... No, penso che dovevamo noi stare più attenti e chiudere meglio, io in primis sul cross e poi stare più attente in mezzo all'aria. Questa sconfitta vi dimensiona o gli obiettivi rimangono gli stessi? No, assolutamente, gli obiettivi rimangono gli stessi, appunto come ho detto guarderemo i nostri errori per cercare di non farli più e tenere la testa alta perché il campionato è lungo e ci sono tante partite.